E' stato molto emozionante la settimana scorsa contro le Figi perché per me era la prima partita da titolare in casa e come un avversario come l'Argentina sarà ancora più emozionante e ancora più duro perché dovremmo riconfermare la buona partita che abbiamo fatto la settimana scorsa. Ti abbiamo visto sia con le Figi sia nelle partite che hai fatto nel Super 14 con le Zebre che non sei più il mediano di Mischia di una volta che smiscava il pallone e correva dietro. Attacchi spesso anche la linea e spesso rompi in placcaggio. Che facile mi rompono loro. Mi è stato chiesto di cambiare un po' questa abitudine. Ho cercato, ho lavorato per migliorarmi e sto provando e cercherò di lavorare ancora di più e spero di fare sempre meglio. Abbiamo visto molti video di come giocano loro e sappiamo che, come detto tu, sono molto forti, molto fisici e ci siamo riparati al meglio. Poi vedremo in campo se rifaranno le stesse cose che hanno fatto, se proveranno a stupirci anche loro e saremo pronti, spero. Il cambio della regola sul tallonaggio, ha cambiato qualcosa anche a livello internazionale oppure... Sicuramente loro vogliono che si giochino più mischie e mi sembra di vedere che il risultato ci sia un po', nel senso che ci sono mischie un po' più veloci e questo può far bene al gioco. Ovviamente noi vogliamo giocare, quindi è una cosa per noi a favore, penso, nostro. Attaccare bene le guardie è una cosa su cui voglio fare bene, anche i calci nel box, siccome abbiamo un piano di gioco dove nel nostro campo cercheremo di provare a rischiare il meno possibile e vorrei fare dei buoni calci per cercare di mettere in avanzamento la squadra.